L'incompatibilità di Francesco Roberti da sindaco di Termoli e da neoeletto presidente della regione Molise non sarà ufficializzata prima di un mese. C'è tutto un iter da seguire come emerso oggi nella seduta del Consiglio Comunale della città adriatica, convocata proprio per sancire questo passaggio. Il presidente dell'Assisi, Annibale Ciarniello, intervistato dal collega Emanuele Bracone, ha spiegato nel dettaglio la procedura che si dovrà seguire e che è stata attivata dopo il voto che l'Assemblea ha espresso ad un ordine del giorno in cui viene stabilito un termine di 10 giorni per consentire a Roberti di formulare osservazioni relative alla sua incompatibilità fra il ruolo di sindaco e quello di presidente della regione Molise. La procedura è prevista in maniera molto precisa e puntuale dall'articolo 69. L'articolo 69 prevede quindi che vengano indetti tre consigli comunali. Nel primo Consiglio Comunale la proposta che è stata poc'anzi approvata con la quale verrà dato un termine di 10 giorni al sindaco per formulare delle osservazioni alla contestazione della sua incompatibilità alla carica di sindaco in quanto eletto governatore della regione Molise. Scaduti questi 10 giorni dovrò procedere a convocare un ulteriore consiglio in cui accertato il permanere della causa di incompatibilità dovrò invitare il sindaco a rimuovere l'incompatibilità. Dandogli ulteriori 10 giorni, scaduti quei 10 giorni, non rimuovendo la causa di incompatibilità, verrà dichiarata dal Consiglio Comunale la decadenza del sindaco. Tutto rimandato quindi dopo la festa di San Basso. Un saluto a tutti i presenti, buongiorno. Credo rivedu除caste sul palazzo di San Basso,